Io propongo di prendere in considerazione per descrivere il quadro del nostro paese e dell'Europa anche la categoria di meticciato di civiltà e di culture, non mi riferisco anzitutto al meticciato biologico, ma al meticciato di civiltà e di culture. È vero che meticciato va bene in un certo senso con la categoria anche di globalizzazione, termine a cui si è fatto molto ricorso nell'ultimo decennio, oggi per la verità è un po' caduto in ombra. Però questo è molto connotato in senso economico, mentre il processo in atto è senz'altro molto più ampio, ha un motore economico ovviamente decisivo, ma ha implicazioni fortissime sul piano della cultura, intesa nel senso più basilare, cioè nel modo di vivere delle persone, cultura come civiltà, cultura come dato di esperienza. Del resto, appunto, anche le vicende connesse alle elezioni europee ci fanno vedere l'imponenza culturale di questo dato. In sintesi, cosa vuol dire questa categoria? Vuol dire che io cambio per il fatto di entrare in relazione con te e che tu cambi per il fatto di entrare in relazione con me. Per oasis, che si occupa in modo specifico di cristiani e di musulmani in quanto credenti, non è uno strumento specifico di dialogo interreligioso, è uno strumento di relazione, di conoscenza reciproca. Questo fatto significa che, vivendo gomito a gomito nello stesso quartiere di Milano, oppure per il fatto che 300 ragazze sono rapite in Nigeria, oppure che la guerra in Centrafica abbia prodotto anche ieri la morte di 100 cristiani, la vicenda della miniera in Turchia, il caso di Meriam in Sudan, entrano nella nostra casa allo stesso titolo della cronaca nazionale, in maniera immediata e quotidiana, inevitabilmente questo incide sul mio modo di pensare, di vedere, di essere cristiano e sul tuo modo musulmano, perché la fede, ogni fede, se è autentica, è un captum realitatis, è un modo di cogliere la realtà, non è un'etichetta che uno mette sopra una soggettività già totalmente configurata. Allora, parlare di meticciato significa riferirsi a un'esperienza molto pratica, che ormai vedo tante volte visitando le parrocchie, gli oratori, le scuole, eccetera, eccetera, che la nostra gente tocca con mano tutti i giorni qui a Milano, che molti, anche dei nostri sacerdoti, qui c'è Don Alberti che lo fa da tanti anni, basta visitare Via Padova, le due parrocchie di Via Padova, per rendersi conto del 40% di presenze differenziate di questo genere, cioè è una realtà pratica, ecco, a questo tengo molto, cioè smantellare l'idea che l'elemento di studio, che anche questa bellissima cooperazione tra Osis e la Fondazione Caripro viene oggi proposto, sia qualche cosa riservato degli intellettuali, un po' piantato nell'iperuraneo, e che non abbia a che fare invece con la nostra Milano e con la nostra realtà italiana di oggi. È esattamente il contrario. Si studia perché la vita impone di capire, si studia perché la cultura è anzitutto una esperienza. Il nostro incontro di questa mattina giunge a pochi giorni di distanza dal significativo pellegrinaggio di Papa Francesco in Terra Santa, con la forza testimoniale della sua persona, con l'esemplarità dei suoi gesti, basti pensare all'invito alla preghiera dei due leader, il Papa ha mostrato come la dimensione ecumenica e quella del dialogo con le religioni siano per il cristiano intrinseche all'atto stesso della fede cristiano-cattolica. Questa è una cosa che noi italiani per tanto tempo non abbiamo assimilato, capito e percepito. Proprio perché fino a 25 anni fa il problema non aveva una rilevanza quantitativa, sembrava che il problema non ci riguardasse, che riguardasse solo quelli che avevano, come Berlino o Parigi o altre realtà dell'Europa, non aveva qualcosa di simile a una sorta di continua invasione. Invece il problema è strutturale, perché ogni fede inevitabilmente incontra ogni espressione religiosa, la fede tende sempre a diventare un fatto di popolo e la modalità con cui un fatto di popolo si esprime si chiama religione. E quindi ogni fede deve sempre pulire la religione e d'altra parte una fede che non genera religione non incide sulla vita. Allora per noi questo lavoro, e il Papa lo ha testimoniato molto bene negli incontri ecumenici e interreligiosi, adesso in Terrasanza è significativo che abbia per la prima volta portato nel suo seguito sia un rabbino che un imam, costringono già a questo cambiamento di cui noi cristiani abbiamo bisogno, cioè cominciare a pensare in maniera solidamente, seriamente ecumenica, interreligiosa, l'esperienza della fede cristiana. E quindi tentare di conoscerci, di capirci e di costruire quell'amicizia civica tra uomini delle diverse religioni che è diventata necessaria per poter vivere nelle nostre società di oggi, anche in Europa, anche in Italia, anche a Milano. Il dialogo interreligioso, come normalmente si dice, si articola a più livelli, ma il più importante, come dicevo prima, è sicuramente il dialogo della vita, che grazie a Dio anche nella nostra diocesi ambrosiana è ben presente e che vorremmo crescesse sempre di più. Esiste poi anche un dialogo teologico, un dialogo della spiritualità, che hanno bisogno di un'adeguata preparazione culturale. Ma anche a questo livello, per essere davvero incisivo, il dialogo non può giocarsi solo sul piano dei principi, della comparazione dei sistemi di pensiero, ma deve sempre partire dalla situazione concreta e soprattutto dalla inevitabile interpretazione che cristiani e musulmani praticano e vivono della loro fede. Perché la fede non soltanto genera cultura, perché se la fede mi dice chi l'uomo è, che cosa vuol dire amare, che cosa vuol dire lavorare, che cosa vuol dire riposare, diventa cultura. Ma poi la fede si gioca anche, in quanto religio, si gioca nella gora pubblica, in cui circolano diverse interpretazioni della realtà che arrivano anche a interpretare la fede. Questo è un dato molto importante e spesso sottovalutato ed è uno dei fattori che spesso generano incomprensione non solo tra le religioni, ma anche tra le diverse confessioni cristiane e anche all'interno del cristianesimo. Dire questo non significa affermare che per il cristiano bisogna andare sulla strada di uno storicismo relativista, sia perché le interpretazioni possibili della fede sono sempre ultimamente al vaglio della rivelazione garantita per il cristiano dal triplice apporto di tradizione, cristiano cattolico, sacra cristù, scrittura e magistero, come dice la Dei Verbum, sia perché l'inevitabile interpretazione della fede approfondendo la logica dell'incarnazione per il cristiano, del Dio che si è giocato con la storia, profila sempre meglio la natura dinamica dell'identità cristiana, che non è una cosa fissa, è una cosa che ha dei fondamenti che però muovono la libertà nella storia e la decidono di volta in volta su tutto ciò che almeno è opinabile. Ma se il dialogo interreligioso, anche quello strettamente teologico, va situato nella storia, questo significa che esso assume una rilevante complessità. Ed è per questo complessa è l'esperienza della convivenza e a sua volta diventa complessa l'esperienza del parlarsi, del capirsi, del conoscersi e dell'approfondire. Idealmente è talmente complesso che chi pratica un simile dialogo dovrebbe essere una sorta di moderno pico della mirandola. Purtroppo, o meglio per fortuna, questo non è possibile. Quindi bisogna pazientemente dal basso inventare una forma di collaborazione tra diversi saperi e tra diverse discipline ed è proprio questo che vuole attuare il progetto che questa mattina stiamo presentando. Questo è lo scopo specifico all'interno del lavoro di Osis e all'interno della molteplicazione, se capisco bene, della Fondazione Caripro, lo specifico di oggi. E cioè chiamare diversi saperi in forma originale a collaborare per una intelligenza dei problemi che emergono dall'esperienza del meticciato di culture e di civiltà. Il cambiamento in atto è percepibile, molto istintivamente a pelle nelle sue diverse dimensioni. Ecco, questa ricerca di Osis ha scelto di concentrarsi su sei ambiti per compiere questo lavoro. Ripeto i titoli. Secolarizzazione e nuove forme di religiosità. Secondo, fondamentalismo e violenza. Terzo, media e religioni. Quarto, dialogo islamo-cristiano, qui in senso propriamente teologico. Quinto, libertà di religione, di espressione e di conversione. Quinto, politiche dell'Italia e dell'Europa verso il mondo musulmano. Questo è uno spettro ampio di temi. Ovviamente questi ambiti non hanno nessuna pretesa di esaustività, ma ci sembrano essere tra le tematiche più rilevanti oggi e siamo quindi molto grati alla Fondazione Caripro e all'Avvocato Guzzetti che ha la sensibilità per capirne l'importanza e ci consente di indagarle attraverso un progetto che è decisamente ambizioso. Osis, come sapete, opera in questi ambiti già da diversi anni. Direi fin dalla prima intuizione del 2000 che divenne poi operativa a partire dal 2003. Alcuni dei presenti ricorderanno forse che proprio alla secolarizzazione è stato dedicato l'incontro del Comitato Scientifico dello scorso anno qui a Milano mentre il tema della violenza religiosa è l'argomento spinoso inutile nasconderselo ma necessario a cui sarà dedicato il Comitato di quest'anno che si terrà non a caso a Sarajevo il 16 e il 17 giugno del prossimo venturo. Il metodo di Osis è collegiale, comunitario, internazionale transdisciplinare, comunitario, transdisciplinare, internazionale. Vogliamo che sia anche il progetto che presentiamo questa mattina che sarà fra poco presentato. Attraverso seminari, conferenze, momenti di lavoro personale adesso si prefigge di formare un gruppo di giovani studiosi che si sono già dimostrati competenti in uno di questi sei ambiti perché transdisciplinare non può significare generico e che al tempo stesso sono disposti ad attraversare campi del sapere che non appartengono a loro convogliarli perché imparino da maestri riconosciuti mettendo a disposizione umilmente le loro competenze in modo che questo gruppo di lavoro, una vera e propria task force guidata dallo staff di Osis e dai coordinatori scientifici possa incontrarsi per ciascuno dei sei ambiti con due esperti riconosciuti a livello internazionale e quindi è un progetto che in due anni vorrebbe dar vita a sei realtà lavorative con sei grandi momenti anche di incontro organizzati in luoghi significativi per Milano e per il Paese e in modo da avere questo lo scopo per il futuro gruppi di persone a cui rivolgersi per essere aiutati o comprendere meglio i termini dei problemi che man mano la vita ci presenta facciamo l'esempio del tanto dibattuto tema della erigenda moschea di Milano poter entrare su queste tematiche allontanandoci sempre più da un approccio frettoloso istintivo e reattivo cercando invece di evitare colpi di slogan e andare invece a delle ragioni effettive a proposito dei temi che la transizione epocale in atto ci presenta in particolare di quelli cari ad Osis non c'è oggi chi non avverta la necessità di una visione unitaria e sintetica ma per questo occorre uscire da un certo provincialismo che a livello scientifico si traduce in due gravi peccati da un lato il fatto di continuare a pensarsi come provincia anche quando si è metropoli e questo è un problema che spero che l'Expo possa aiutarci a superare quindi evitare di mancare una capacità di interagire di confrontarsi con pensatori più rilevanti con esperienze audaci che sono in campo non soltanto in certi settori di punta come per esempio è evidente almeno così mi hanno fatto capire a Milano con il design, con la moda eccetera ma tenere anche a livello di certe ricerche di carattere scientifico legato come si stanno muovendo le nostre università ma in termini anche più globali recuperando una visione culturale più unitaria ma c'è anche un altro tipo di provincialismo che è la cura ossessionata della ricerca della provincia del proprio piccolo sapere come se tutto si concentrasse lì è come se non ci fosse la necessità di superare una iper specializzazione che alla fine fa vedere che non c'è sempre chiarezza circa la funzione sociale compiuta della propria ricerca la prospettiva di Oasis ma di tante altre realtà operanti a Milano in questo campo e in altri campi è al contrario espressa molto bene da un'affermazione di Andrè Michel che è uno dei più grandi studiosi benché anziano ancora viventi di letteratura araba che in una conversazione che sarà pubblicata sul prossimo numero della nostra rivista osserva non occorre creare continue sezioni di lingua e letteratura araba ma piuttosto cattedre di lingua, letteratura e storia all'interno di unità di insegnamento e di ricerca fondate su un programma comune invece si è continuato a fare dipartimenti di studi arabi arabi islamici, arabi semitici e in questo modo si sono conservate delle specie di riserve ambiti di difficile accesso perché considerati fuori dalle discipline correnti ci vuole un nesso culturale tra le varie discipline e questo lo si riscopre se si parte dalla realtà e dall'esperienza e si vede la funzione sociale del sapere ecco questo progetto non vuole essere se l'ho inteso bene per come gli operatori di Osi l'han formulato non vuole essere costruire una riserva di specialisti ecco questo voglio solo dire un'ultima cosa sul titolo abbiamo parlato di conoscere il meticciato e orientare il cambiamento in effetti se il meticciato induce inevitabilmente dei cambiamenti nel modo in cui i cristiani e i musulmani vivono la loro fede soprattutto in un contesto plurale e secolare qual è quello dominante in occidente questo non significa che tutti i cambiamenti siano buoni anche il fondamentalismo violento è un'interpretazione culturale della fede ma è un'interpretazione abberrante da respingere perché conduce letteralmente alla distruzione come vediamo molto bene succedere in Siria etimologicamente governare il processo di meticciamento rimanda al timoniere che conduce la nave attraverso il mare in tempesta fino a farla prodare ad un porto sicuro questo è il compito che ci sta su siamo in pieno mare in tempesta dobbiamo tenere la nave il governator deve essere lì ben attaccato al timone se del caso anche legato quindi non è un'attività asettica come tanta illusione tecnocratica ci vorrebbe far credere questo è un grande rischio a tutti i livelli compreso a livello della società civile e della politica oggi si pensa che nasce un problema troviamo i due o tre esperti glielo diamo in mano e si risolve non è esattamente così come tocchiamo con mano nel progredire di questo travaglio e della crisi che porta con sé a carattere economico finanziario da cui non stiamo uscendo non è quindi l'illusione tecnocratica che può risolvere il problema ma è un compito difficile che domanda sapienza prudenza in senso forte perché a volte la nave più che un solido bastimento sembra la celebre zattera della medusa di Gericò e proprio per questo non possiamo permetterci discordie e litigi questo ci porterebbe solo lontano quindi speriamo che attraverso questo progetto di contribuire un poco a orientare questo cambiamento verso il bene pratico dell'essere insieme che è tanto innestato nella nostra tradizione ambrosiana Milano deve ridare l'esempio a livello europeo di questo dato di fatto e nel nostro DNA fin da prima dei tempi di Ambrogio e con il nostro DNA anche questo a noi sembra come cristiani è una forma per promuovere la vita buona che viene dal Vangelo che per sua natura è una vita che domanda di essere condivisa con tutti grazie Bisogna vedere questa proposta come un elemento specifico inserito in un lavoro molto più ampio che è per esempio già in atto parlo dal punto di vista della diocesi che conosco bene dove la garanzia che viene da esperienze come via Padoa dalla lunga esperienza di Ronald Berti dall'esperienza di Branca di Ferrari di molti altri cioè c'è stata in questi ultimi vent'anni un'attenzione progressiva del mondo cristiano nei confronti del mondo musulmano Milano questo si vede spesso molto poco perché evidentemente fanno sempre più notizie più cronaca gli elementi dialettici invece si è creata una trama di rapporti rispettosa della propria dinamica identità ma nello stesso tempo costruttiva consapevole della natura plurale della società alla ricerca di un'amicizia civica e quindi ci tenevo a dire che questa proposta che ha i contorni specifici perché poi la vita deve venire sempre prima ma poi la vita pone delle domande e alla domanda bisogna rispondere ed è lì che la dottrina diceva già San Tommaso prima viene la vita della dottrina perché è la vita che conduce alla scienza della verità ma quando le domande nascono dopo bisogna tentare di rispondere per dilatare l'esperienza della vita e per orientare ecco lo scopo di questa iniziativa per cui sono veramente molto molto grato alla fondazione Cario dottor Guzzetti è di sostenere un aspetto di un cammino che è in atto attraverso tanti soggetti in Milano in Italia in Europa ed è secondo me costituisce quella ricchezza oggi un po' disprezzata a causa del cosiddetto populismo della società civile che invece per me è una delle radici più potenti di speranza per rinnovamento il rinnovamento del paese anche politico il rinnovamento anche politico del paese e per esempio adesso il nesso non c'è tempo di entrare in tutto ma il nesso che il professor Mozzani che adesso faceva tra questo sostegno che la Cari prodà a questo progetto oasis e l'azione che sta facendo circa l'uelfare comunitario che è una modalità geniale e che ha futuro per venire incontro i bisogni delle nostre realtà sociali è fondamentale cioè dobbiamo affrontare i cambiamenti radicali di questo passaggio di millennio che investono religione cultura educazione economia politica lavoro salute eccetera dobbiamo affrontarli realmente dentro un contributo di solidarietà che può diventare creativo nella misura in cui tutti insieme ci chieniamo ad ascoltare il bisogno ma poi cerchiamo di interpretarlo di dilatarlo e di dare risposta creativa al bisogno per non diventare schiavi del bisogno che si è amica degli animali insomma affrontiamo il bisogno sempre dilatandolo in desiderio quindi abbiamo presentato oggi un programma specifico ma il suo valore è che sta dentro un tipo di proposta plurima che va ben oltre Oasis Oasis fa la sua piccola parte ma che grazie a Dio Milano c'è e che è un buon segno di speranza per la metropoli futura Milano oggi è un agglomerato metropolitano ma non è una metropoli perché non ha la coscienza di esserlo questo è il punto questo è mio personale commento grazie grazie a tutti grazie a tutti